Ciao, io sono Ale, benvenuti e benvenute in questo mio nuovo, nuovo, nuovo video. Questa sera sono qui per festeggiare 10.000 iscritti e scusate se parlo un po' di lato ma ho qua il microfono. Perché oggi per festeggiare questo traguardo andrò a fare il mio primo bookbag in smr per voi. Io sono davvero molto contenta del traguardo, vi ringrazio tantissimo, 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 tantissimo. Una ad uno e una ad una. Grazie, 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 grazie mille a tutti. È un traguardo abbastanza piccolo in generale se guardiamo i canali smr ma è davvero grande e comunque decisamente importante. Come lo è stato quello dei primi 1000 iscritti, dei 5000 e così via. Sono davvero molto contento e tra l'altro quando io sto registrando di domenica e io sono arrivato ai 10.000 ieri appunto, quindi sabato. E quando avevo il dashboard di youtube aperto ero lì a 98, pare 9.998. E ho detto, ora può accadere di tutto. Nel senso che potrebbero salire subito e dicevi là, potrebbero scendere, potrebbero restare qui per una giornata, non si sa. E poi dopo ho visto che sono saliti e nulla. È stato bello anche attendere questo momento. E quindi appunto vi ringrazio davvero tanto 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 per il supporto. Allora questa sera farò un mukbang con della sushi homemade, sushi vegetale homemade. E poi anche tutti i dolcettini, anche questi fatti da sottoscritto. Allora vi mostro un pochino quello che ho qua. Allora ho, aiuto, vediamoli non far cadere tutto perché qua questo che è il sushi che ho preparato questa sera. Tra parentesi, adesso è anche piuttosto tardi ma dopo vi racconterò un attimo meglio. Questo appunto che è il sushi che andrò a mangiare come piatto, diciamo, della serrata, come portata salata. E poi ho qua, aiuto, vediamoli non far cadere tutto. Come torta, diciamo, ha fatto questo che è un banana bread. Costa una parte del banana bread però l'ho messo così con la cartellina. Allora, dopo vi dico anche le ricette e tutto. E poi ho anche qua dei biscottini, biscottini al limone. Ok, arrivato a questo punto direi che all'alba delle 22-17 possiamo mangiare. Posso mangiare? Beh, siccome spesso chi guarda mukbang mangia, ce li guarda appunto mentre mangia, direi che posso augurare buon appetito anche a voi nel caso in cui stiate mangiando, mangiate con me. Allora, ho qui appunto i sushi e ho fatto tre tipologie diverse di sushi vegetale. Allora, iniziamo con il primo. Il primo è questo che ha al suo interno riso chiaramente perché questa è l'alcanori. Poi c'è il riso che ho scelto di utilizzare. In questo caso ho scelto di utilizzare il basmati. Poi carote, sedano ed avocado. Quindi qua ci sono tre, tutte e tre gli ingredienti che ho scelto di utilizzare. E poi adesso mangio questo e poi vi faccio anche vedere le altre tipologie, diciamo. Qui ho una, un barattolino, una, beh, un passoglietto diciamo, non un passoglietto, come si chiama? Vi mostro. Una ciotolina con della salsa di soia. Che vado? Che vado? Vado a fare così? Vado a fare l'integgio di sushi? Mi fa un sacco strano mangiare e sentire il suono col microfono. pur ascoltando e guardando spesso, già comunque abbastanza spesso, di mukbang. Bene. Molto buono. Ma vi confesso che prima, quando erano pronti verso le 8 così ne ho assaggiato qualcuno perché avevo davvero fame. e siccome non sapevo, anche ora avrei trovato il silenzio. Vi ho fatto, ho mangiato un pochettino prima, però ne ho tenuti davvero tanti. Sì, e probabilmente alla fine non è anche stasera, li mangiano anche domani, ma molto bene. Allora, questo appunto era la prima tipologia. Poi ho fatto praticamente... Questo qua dovrebbe essere così. Sì, penso. Ho fatto... Sì, ma è questo il medesimo. Aspettate che lo prendo un attimo meglio. Vedrà, e sentivate il suono croccante perché ci sono la carota e il sedano che sono croccanti, mentre quelli con l'avocado sono più morbidi. Quindi, questo qui, se la fotocamera dice di mettere a fuoco, ce la può fare forse. Questo qua è sempre con avocado, carota, sedano e poi anche un po' di maionese. Onestamente non sono un amante del sushi con la maionese, però ho provato. Devo dire che, secondo me, può starci bene. Comunque adesso lo assaggio. Salsa di soia, che mi piace. Non in grande quantità. Ecco, ovviamente adesso mi è caduto dentro. Dicevo non in grande quantità, però almeno un pochino ci sta, secondo me. Devo dire che è buono. Che bello. Ho davvero voglia di mangiarlo perché ci ho messo un po' a prepararlo. E poi, appunto essendo tardi, mi è venuta fame, ovviamente. Bene. No, devo dire che è buono perché la principale differenza che c'è con l'altro è che avendo la maionese ha un pochettino di, che ha quel sapore di acidità in più che ci sta, ci sta, contrasta con il sapore piuttosto tendente al dolce del riso e anche con il sapore più deciso e salato della salsa di soia. Bene. Tra l'altro mi spiace non potervi mostrare il cibo che sto mangiando, però l'inquadratura è questa. Ho messo sotto un tagliere di legno che è veramente alto, però purtroppo non raggiungo un'altezza che è stata l'età per permettermi di mostrarvi il cibo mentre mangio. Però ve l'ho mostrato prima e poi, mano a mano che lo prendo, prendo il sushi e appunto riuscito a vederlo. Quindi questo qui mi piace decisamente. Poi, terza e l'ultima versione che ho preparato. Vediamo se ce n'è uno ben fatto, proprio bello tondo, tipo, cioè, ecco questo. Ecco, comunque, si sono tagliati bene in merito di mia mamma perché la fascia e il taglio l'ha fatta, cioè, se l'ho occupata lei, ecco, perché io li avrei spappolati tutti, però, dettagli, vero. Questo qui, che è l'altro, eccolo qua. Questo è semplicemente con il riso di avocado in quantità maggiore rispetto a quelli di prima. E penso sia uno dei miei preferiti. Le salse di soia e, ecco che mangio le gocce, perfetto. Beh, l'avocado è sempre buono. Altro di avocado. Molto buono. Molto buono. Molto buono. Molto buono. Beh, molto soddisfatti di questo sushi che ho preparato. ma che poi in realtà parlando di cucinare non imparare il sushi è veramente stra facile l'unico punto un po' critico è quando va arrotolato il roll anche se in realtà non è difficilissimo con la stuaglietta tipo in bambù che vendono apposta per il sushi che è proprio quello che ho utilizzato io e poi appunto la fase di tagliare le varie fettine però alla fine di al massimo vi si spezzano o vengono un po' più schiacciati però il sapore pur sempre è buono ovvio nel caso di quello vegetale forse è più facile perché basta tagliare le verdure a fettine e si mettono all'interno è un po' più difficile magari con il lapisce crue l'esempio perché bisogna trovarlo, saperlo tagliare eccetera eccetera però ecco diciamo che il progettimento è anche abbastanza semplice formato da vari passaggi ma non c'è nulla di particolarmente strano ecco e poi la cosa comoda anche per il mukbang è che non devi mangiarlo caldo quindi io anche se l'ho lasciato qua un po' ho preparato i sette eccetera non ho dovuto né riscaldare né nulla perché è da mangiare freddo quindi è molto comodo anche da quel punto di vista e voglio dire qualcos'altro ma non me lo ricordo più va bene andiamo avanti a mangiare questo qua si è un po' distrutto ma niente questo qua ecco sto perdendo riso questo qua è come il primo che ho mangiato quindi con tutti e tre gli ingredienti ma senza maionese sposto la salsa di soia qua vicina che forse ha più senso si mi è venuto in mente quello che volevo dirvi ossia scusate se intanto il mio stomaco brutto no ma sto mangiando volevo dirvi che non ho mai registrato mukbang fino a questo momento per il semplice fatto che come ben sapete per me è davvero tanto 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 difficile registrare all'ora di pranzo o all'ora di cena perché a pranzo fondamentalmente per le mie impossibilità quasi sempre ma anche se sono a casa o appunto magari a weekend il problema va invece al fatto che ci sono più rumori ci sono i vicini eccetera e all'ora di cena stessa cosa per rumori vari che ci sono però devo dire che mi sta piacendo registrare questo e in realtà mi hanno anche tanto pesato mangiare un po' tardi sono le dieci e mezza ora ecco però è chiaro che questo lo sto facendo anche perché è un'occasione questa qui della speciale di 10.000 iscritti e poi avendo anche questo weekend lungo ci sta di più però è chiaro che quando tutta la settimana è piena magari mi viene anche un po' più difficile registrare tardi un video in cui mangio ecco però tendero di riportarli magari registrandoli non so nel primo poveriggio o quando posso ecco quindi questo volevo dirvi appunto è relativo ai mukbang sul mio canale per quello se non avete visti tanti ecco cioè non avete visti tanti non l'avete mai visti a parte questo direi che mangio gli ultimi pezzettini di sushi ecco ecco ho mangiato quello con l'avocado lo fate davvero tanti tanti con l'avocado e basta perché appunto sono i miei preferiti però devo dire che questo ecco dire Questa occasione mi è servita anche per capire che la maionese nel sushi ci sta molto bene Infatti ne mangio un altro così Sì, con la maionese Tra l'altro è bello perché è stracolorato Poi di salsa di soia Tra l'altro il di misa che a voi piace da mangiare con sushi In realtà io la uso anche per a volte per condire le verdure, per fare delle ricette così Perché trovo di tanta stabilità con una piccola quantità di salsa e da un buon sapore Molto buono Però, visto che è un po' tardi, che ho già dei dolci, cioè che ho anche dei dolci da mangiare Direi che posso fermarmi qui E passerei quindi al dolce Intanto magari sposto appunto la teglia con il sushi e la salsa di soia per far posto alla banana bread e ai biscotti Eccomi qua pronto per il momento che non ci stavate aspettando Penso Con il mio banana bread e la canterina Io non torno a un complanno quindi non dobbiamo cantare tanti auguri Semplicemente auguri al mio canale Per questo nuovo traguardo di 10.000 iscritti E niente Quindi 3, 2, 1 e... Ecco tutto il fumo Bene Allora Appoggio qua E direi che ora ovviamente di tutti questi biscotti, di queste fette di banana bread Vado a prenderne una perché ho mangiato parecchio In fin di conto ho sfruttato quasi mezza teglia di sushi che non è poco Allora Mentre sushi l'ho inventato io tra virgolette Nel senso che Non ho seguito una ricetta particolare Ho fatto i mix che volevo io Per quanto riguarda queste due ricette Ve le ho abbastanza seguite Però ora non ve le sto a spiegare passo passo Perchè non me ne ricordo vi metto il link in descrizione con le ricette Dalle quali ho preso ispirazione insomma Allora Partiamo con i biscottini I biscottini sono... anzi Ve li mostro tutti Se la fotocamera metterà mai a fuoco Eccoli qua i biscottini Vabbè la fotocamera non collabora molto come al solito Fa niente Ci penso che a mostrarveli Sono dei semplicissimi biscotti In realtà non hanno nulla di particolare esteticamente parlando Se non che nell'impasto hanno un po' di scorza di limone Infatti hanno il sapore di limone Leggero e però ce l'hanno Scusate ma veramente la fotocamera non collabora Ok si è decisa di mettere fuoco il biscotto Eccoli qui Abbastanza semplice ecco Infatti ho utilizzato la farina Non mi ricordo più Forse per questo è la farina zero Con zucchero, olio, latte e lievito Ecco E scorza di limone appunto come dicevo E la ricetta di questi veramente tra l'altro veloce Perché cottura circa 10 minuti in forno Questa l'ho presa da fatto in casa da Benedetta Se non sbaglio Comunque appunto vi metto il link in descrizione Adesso assaggiamo Molto buono Devo dire che È proprio piacevole come sapore È abbastanza dolce Ma non troppo Guardate che però io rispetto alla ricetta Sia per i biscotti Sia per il banana bread Ho passato di 20-30 grammi La quantità di zucchero Perché è una cosa che tendo a fare sempre Per evitare di mangiare troppo zucchero Però appunto Sono già abbastanza dolci Con Sia appunto mi sembra 20-30 grammi Meno rispetto alla ricetta Quindi ricordate Però non è il caso E Dentro sono molto 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 morbidi E all'esterno Leggermente croccanti Ma come avete sentito Non sono di quelli proprio Stile cookies Croccante No? Anche se in realtà è perché Lo lasciate dentro Sui 12 minuti Se magari lasciate 14-15 minuti Riescono a diventare un pochettino Più croccanti In superficie Quindi Potete fare un po' Come preferite voi Ecco La croccantezza Magari non è tanto esterno È così poco croccante Però È molto buono Passando invece Al Paranapred Questo è L'aspetto Come vedete All'interno Anche del cioccolato Non solo Questo Per fare questo Ho preso la ricetta Dal canale di Cucina Botanica È Pananapred Quello classico Non al cioccolato E Lo vedete Con un impasto scuro Perché Ho utilizzato La farina Di tipo 2 Se non sbaglio E Poi vabbè Poi ho messo anche farina zero Mi sembra Perché Non avevo abbastanza Farina di tipo 2 Però comunque È È venuto buono E in realtà Lo potete fare Quasi con tutte Le farine Poi All'interno L'ereto Ci ha lasciato abbastanza Libertà Carlo Ci ha lasciato libertà Per quanto riguarda Il ripieno Diciamo Ma io ho messo Qualche noce E poi Del cioccolato Spezzettato Quella che Secondo me È davvero molto buono Ci sta davvero bene Perché poi Considerando che Il panorama freddo È formato da Grande quantità Da banane E le banane Col cioccolato Ci stanno molto bene Ecco Quindi Assolutamente Secondo me Ci sta E anche di questo punto Vi lascio il link In descrizione Ma ora andiamo a Mangiarlo Cioccolato Cioccolato Devo dire che è molto buono Anche questo In questo weekend Lungo Che sono andata Alla pazza Cioè Ho cucinato Un po' di tutto Perché ho fatto Appunto Biscotti Banana bread Sushi Poi ieri Ho fatto anche Regù di soia Poi Altre cose Vabbè poi Oggi pomeriggio Abbiamo fatto Degli spaghetti Ok Vabbè a parte Le cose normali Però Ho fatto cose Comun' più Laboriose Diciamo Che non faccio Spesso Come questa Appunto E Le ho fatte Ce le volevo già fare Ma le ho fatte Non ce l'ho ragione Visto che Appunto C'è Stato questo Traguardo Questa occasione Per fare un video E quindi Ho voluto festeggiare In questo modo Facendo Delle cose buone Non ce l'ho Che Grazie. Sì, sì, sì. Devo dire che alla frutta secca in generale ci sta molto bene dentro alla banana pretta perché è davvero molto soffice no? E il fatto che ci sia qualcosa che sia un pochettino più croccante gli dà un buon mix ecco trovo che ci stiano molto bene mettendo le nuci eccetera bene siamo arrivati Al termine di questo speciale sono davvero contenta per questo traguardo e spero che questo modo per festeggiare vi sia piaciuto Comunque non preoccupatevi perché magari non amante di questa tipologia di video ne arriveranno tantissimi tantissimi altri normali in cui andrò a fare solo whispering, trigger eccetera chiaramente Chiaramente per quanto riguarda i mukbang sia nel caso in cui vi dovessero piacere sia se non vi dovessero piacere più di tanto Io li porterò raramente ecco nel senso che anche se in tanti media reti che vi piacciono non traslerò i contenuti del canale vero si mukbang ma li porterò magari appunto per dell'occasione oppure non so una volta ogni due mesi o quando riesco a registrarlo ecco Chiaramente il mio canale resterà fedele ai suoi contenuti con trigger rilassanti eccetera Però per non fare un video simile agli altri ho deciso di differenziare questo e di portare finalmente un mukbang visto che comunque mi è stato chiesto più volte Ma ora visto che il video è piuttosto lungo e visto che si sono fatte le 11 circa Vi auguro una super 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 Buona 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 notte 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 Grazie a tutti.